una ragazza al fidanzato sai tesoro questa mattina sono stata per la prima volta al sexy shop sai quei cosi dentro le vetrine c'erano di tutte le misure e comincia a ridere forte e ragazzo e si è davvero divertente vero è sì soprattutto perché ho visto che quelli come il tuo li regalano come portachiavi se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis